Qualche settimana fa, gran parte della Sardegna è stata remassata dagli ingegni. In molti hanno piacere il lavoro, Scialmo organizza un concerto gratuito il 13 agosto per aiutare questa persona. Il posto esplode di gente e scatta la politica fin di Covid. Per me ha spiegato il popolo, che non lo sanno, è stato rimesso in un'altra cosa, da un'altra cosa che non lo sanno, non lo sanno, è stato rimasto a casa. Per me ha spiegato il nostro corso gratuito, a un'altra cosa che si chiama, è stato migliorato, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.